Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare questa borsa molto carina in color panna, burro appunto, rose one è color burro, con i manici in bambù e una decorazione floreale con cui ho voluto guarnirla. La borsa è interamente foderata e chiude con due calamite qui al centro. Io sono davvero molto soddisfatta, è una borsa estiva da usare appunto in queste giornate di sole, spero che vi piaccia anche a voi e che altro dire, fatemi sapere i vostri commenti sulla pagina Facebook, trovate tutti i link in descrizione, dei materiali, dei contatti, di tutto. Vi lascio il tutorial, ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa nuova borsa è un fondo color panna e un uncinetto numero 3, dei manici rotondi in bambù e del condoncino Minium, io utilizzerò il color panna. Come primissima cosa dobbiamo fare il cappio sul nostro uncinetto, prendere il fondo e girarlo dalla parte a rovescio, quindi questo è il dritto del mio fondo che io voglio che stia da fuori, mentre questo è il rovescio della parte che starà all'interno. Lo giro dunque a rovescio e mi inserisco in un foro qualsiasi con l'uncinetto, estrago il filo e vado a fare una maglia bassa. In questo modo, rientro all'interno dello stesso foro e faccio lo stesso procedimento un'altra volta, in modo da avere, diciamo, due maglie basse all'interno dello stesso foro. Dopodiché passo nel foro successivo, di nuovo prendo il filo, lo estraggo e vado a lavorare una maglia bassa, entro nuovamente nello stesso foro e ripeto il procedimento. In questo modo. Mi sposto nel foro fianco e rifaccio tutto il procedimento. E vado avanti in questo modo fino ad aver ricoperto tutto il fondo ed essere entrata dentro ogni foro. Una volta riempito e rivestito interamente il nostro fondo ed essendo passati all'interno di tutti i fori, dobbiamo fare un primo giro dove andiamo a lavorare un giro di maglia bassa. Quindi facciamo una catenella. Io mi volto il lavoro perché voglio lavorare da fuori, perché mi trovo più comoda così. Voi vedete un po' anche come vi trovate comodi. e andiamo a fare una maglia bassa per ogni punto con un'unica eccezione, ovvero che nella curva, qua così, in questi tre punti, uno, due, tre della curva, andremo a fare un aumento per ogni punto. Vedete? In questi tre punti qui, in questi qua e in questi tre di questa curva di qua, e poi negli altri tre, tre dell'altra curva dell'altra parte, andremo a fare un aumento per ogni punto. Quindi io adesso sto lavorando le mie maglie basse, arrivo qui ed ecco che incomincio a fare gli aumenti. Il primo, vedete, lavoro due maglie basse nello stesso punto, dopodiché faccio un aumento nel punto seguente, anche, e un aumento in quello dopo ancora. vedete, proprio qui nella curva. Dopodiché riprendo a lavorare una maglia bassa per ogni punto, fino ad arrivare nella curva da questo lato, dove di nuovo andrò a fare i tre aumenti. vedete, in questo modo, adesso sto andando a fare una maglia bassa per ogni punto, adesso sto andando a fare una maglia bassa per ogni punto, adesso sono di nuovo arrivata sull'angolo, e di nuovo qui vado a fare i miei tre aumenti. Quindi nei successivi tre punti andrò a lavorare due maglie basse nello stesso punto, vedete, così, e nello stesso punto ne vado a fare un'altra. Di nuovo, per quello seguente, e ancora uno. dopodiché lavorerò le mie maglie basse, fino ad arrivare alla curva dell'altro lato, dove di nuovo andrò a fare gli aumenti. Una volta terminato tutto questo giro di maglia bassa, dove abbiamo fatto gli aumenti nei laterali, dobbiamo andare a chiudere il nostro giro, facendo una maglia bassissima. Quindi, mi inserisco nel primo punto lavorato, e chiudo, appunto, con una maglia bassissima. Arrivati a questo punto, iniziamo con la lavorazione vera e propria, che andremo a svolgere, appunto, nuvola. Iniziamo facendo due catenelle. Con l'uncinetto mi inserisco nella prima catenella lavorata, ed estraggo il filo. Ho due asoline sull'uncinetto. Salto la maglia subito dopo, ed entro nella successiva. Quindi, salto una maglia bassa di base, ed entro in quella dopo, e carico il filo. Ho tre asoline sull'uncinetto. Quando ho queste tre asoline, prendo il filo, e le chiudo tutte e tre. Voilà. Faccio una catenella. Entro, nello stesso punto, dove sono entrata qui, per caricare l'ultima delle tre asoline. Quindi, entro nello stesso punto che ho già lavorato, ed estraggo la mia seconda asolina. Salto una maglia bassa di base, ed entro in una, in quella dopo. Ho di nuovo tre asoline sull'uncinetto. Prendo il filo, e le chiudo tutte e tre. Faccio una catenella. Entro nel punto, dove sono appena entrata, ed estraggo la mia seconda asolina. Salto una maglia bassa di base, ed entro in quella dopo. Ho tre asoline sull'uncinetto, carico il filo, e le chiudo tutte e tre. Faccio una catenella. Entro dove ho appena lavorato il mio ultimo punto, e carico la seconda asolina. Salto una maglia di base, e entro nella maglia bassa successiva. Ho tre asoline sull'uncinetto, le chiudo tutte e tre col filo, e faccio una catenella. Questo è appunto il punto nuvole. E si lavora in questo modo. Noi dovremo andare a lavorare tutta la nostra borsa così. Quindi adesso di nuovo, entro dove ho già fatto il mio ultimo punto, ed estraggo la mia seconda asolina. Salto una maglia di base, entro in quella dopo, estraggo la mia terza asolina, prendo il filo, e le chiudo tutte e tre. faccio una catenella. Dobbiamo lavorare tutto questo giro, in questo modo. Una volta terminato tutto il primo giro, con questo punto, vedete che io sono qui, e devo chiudere questo primo giro, per iniziare il secondo. Come fare? Allora, puntiamo nel punto, dove abbiamo già puntato prima, ed estragiamo la nostra seconda asola. Vedete che poi io avanzo una maglia, che è quella che andrò a saltare, e punto qui, sopra, dove io avevo già iniziato il giro precedente. E prendo la mia terza asolina. Le chiudo tutte e tre, e vado a fare una maglia bassa. E da qui riparto il giro. Vedete che mi sono raccordata, in modo che andiamo a girare a spirale, e a proseguire la lavorazione della nostra borsa con questo punto. Quindi adesso di nuovo entro qui, dove sono appena entrata prima, ed estraggo la mia seconda asola. Salto il punto che nel giro precedente era la catenella, ed entro in quello successivo. Ho tre asoline, le chiudo entrambe, e vado a fare una catenella. Di nuovo entro qui, dove sono appena entrata prima, ed estraggo la mia seconda. salto la catenella del giro precedente, entro nella maglia successiva, chiudo tutte e tre le maglie assieme, e faccio una catenella. Il punto prosegue in questo modo, e dobbiamo andare avanti a lavorare tanti giri della nostra borsa, quanto la vogliamo alta. Quindi io adesso proseguirò la mia lavorazione, e dopo vi farò sapere quanti giri ho realizzato in totale. Allora, eccoci qua, ho realizzato 20 cm di lavorazione con questo punto, e appunto ho ottenuto un'altezza di 20 cm. Adesso vi faccio vedere come realizzare questo pezzettino ai lati. Io da una parte l'ho già fatto, dall'altra lo farò insieme a voi, perché poi andremo ad attaccare il nostro manico di bambù qui, in questo modo, che ai laterali sono più alti, e in mezzo fa la gobbina, e segue il manico, no? E quindi la borsa resta leggermente più bassa in centro, e più alta ai lati. Quindi adesso vi faccio appunto vedere come lavorare questo pezzo qui. Allora, per primissima cosa, voi dovete, vedete che io qui ho messo uno spillo, dovete prendere il vostro manico di bambù, e posizionarlo esattamente al centro, tenendolo tutto in punta, perché dove siete arrivati voi con la lavorazione, è il punto più basso della borsa, quindi sarà qui dove i manici stanno, diciamo, a filo della lavorazione. Ok? Quindi dovete centrare assolutamente il manico di bambù, e voi posizionate due spilli, dove volete che inizino la parte più alta, quindi io voglio che la mia parte più alta inizi qui, e vada a concludersi in corrispondenza dell'altro lato, quindi da qui a qui, e che la parte in mezzo più bassa sia solo quella. Ok? Quindi vi dovete posizionare il vostro bel manico in centro, e poi vi delimitate con due spilli, proprio la parte, diciamo, quella centrale che sta più bassa, e dove deve arrivare la parte più alta. Una volta fatto questo, delimitato, appunto, la parte che dovete lavorare o meno, vi faccio vedere come proseguire. Allora, come primissima cosa, dovete fare il cappietto sul vostro uncinetto, e poi dobbiamo andarci a inserire con un punto bassissimo, esattamente qui dove avete messo lo spillo. Quindi ci andiamo a inserire, voilà, in questo modo. Dopodiché, i due laterali io li ho comunque lavorati con lo stesso punto della borsa, quindi non ho cambiato tipo di lavorazione. Se voi volete farli solo a maglia bassa, perché volete che stacchino e creino un motivo ancora maggiore, potete, siete liberissimi di farlo. Io vi faccio vedere sempre a farli con questo punto. Quindi adesso, come facevamo prima, facciamo una catenella, puntiamo nello stesso punto in cui ci siamo inseriti ed estraiamo una seconda asolina, saltiamo il punto seguente e entriamo in quello dopo. Abbiamo tre asoline sull'uncinetto e le chiudiamo tutte e tre. Dopodiché facciamo una catenella e ripetiamo il procedimento. Quindi entro nello stesso punto da cui sono appena uscita ed estrago la mia seconda asola, salto un punto, entro in quello successivo, ho tre asoline sull'uncinetto e le chiudo tutte e tre. Esattamente il punto con cui abbiamo lavorato tutta la nostra borsa. Adesso faccio una catenella e così via. Devo proseguire a lavorare a questo punto fino ad arrivare in corrispondenza dello spillo dall'altro lato. Quindi tutto qua, tutto dietro fino appunto arrivare qui dove ho lo spillo. una volta che avete realizzato tutto il giro quindi vedete che io sono arrivata da una parte all'altra con la lavorazione a questo punto dobbiamo voltare il lavoro perché dobbiamo tornare diciamo indietro. Quindi adesso facciamo una catenella e dopodiché dobbiamo fare una diminuzione ovvero dobbiamo saltare tutto il blocco del primo punto quindi saltiamo la prima maglia la seconda andiamo a puntare nella terza e facciamo una bassissima in questo modo abbiamo una solina sull'uncinetto puntiamo nello stesso punto e ricaviamo la seconda saltiamo un punto puntiamo in quello successivo e di nuovo ne abbiamo tre da poter chiudere assieme. L'unica cosa è che appunto dobbiamo saltare il primissimo punto e l'ultimo quindi il primo l'abbiamo saltato così l'ultimo dopo vi faccio vedere come fare adesso ho fatto già una catenella e proseguo a lavorare il mio punto sempre normalmente chiudendo i nostri gruppi da tre facendo la catenella esattamente come prima proseguo così fino ad arrivare al penultimo punto del giro allora guardate sono arrivata al termine anche di questo giro dovrei fare l'ultimo punto qua ma invece di andarlo a fare abbiamo detto che dobbiamo fare una diminuzione quindi vado semplicemente a lavorare una maglia bassissima nella maglia subito di fronte l'altra la lascio perdere vado a fare una catenella volto il lavoro ed ecco qua che ho fatto la mia diminuzione da qui riparto a lavorare il mio punto in modo normale diciamo quindi punto nella prima maglia salto la seconda vado a puntare nella terza poi chiudo tutte e tre le mie maglie assieme vado a fare una catenella e così via e devo lavorare altri tre giri senza più né diminuzioni né niente in questo modo quindi proseguendo con la lavorazione che siamo abituati a fare dobbiamo lavorare altri tre giri vedete in questo modo qua si è formato lo scalino quindi una volta realizzate tutte e due le parti qui più alte da entrambi i lati dobbiamo andare a rivestire il pezzettino di manico di bambù che poi andremo a cucire qui nello spazio appunto che siamo andati a ricreare nella nostra borsa quindi adesso vi faccio vedere subitissimo come rivestire il nostro manico e poi come andarlo a cucire la borsa quindi facciamo il cappio al nostro uncinetto al filo sul nostro uncinetto prendiamo il nostro manico di bambù ci inseriamo all'interno in questo modo con l'uncinetto davanti il filo dietro vado a pescare il filo da dietro e lo chiudo facendo una maglia bassissima dopodiché vado con l'uncinetto a girare attorno per agganciare il filo vedete in questo modo prendo di nuovo il filo e chiudo rivediamolo insieme allora ho il filo sul dito così da dentro con l'uncinetto passo da sotto attorno al manico aggancio il filo lo tiro davanti lo ricarico e chiudo facendo una maglia bassissima quindi con l'uncinetto passo da dietro aggancio il filo lo tiro davanti carico di nuovo il filo e chiudo e devo rivestire più o meno io rivestirò da qui a qui adesso questo è sceso perché volevo coprire questa giunta quindi diciamo sì più o meno così e poi misurate che corrisponda all'incavo della vostra borsa ok quindi proseguiamo una volta che abbiamo terminato di rivestire la parte centrale del nostro manico di bambù dobbiamo tagliare il filo e lasciarlo un po' lungo perché dobbiamo inserirlo in un ago tira fettuccia che ci aiuterà per andare a fissare il nostro manico alla nostra borsa quindi vediamo adesso come fare ad andare ad attaccare il nostro manico alla nostra borsa allora vedete che io qui ho il filo aspettate che ecco mi giro in questo modo ho il filo che ho infilato nell'ago tira fettuccia e sono attaccata qui al mio manico quindi io adesso mi andrò a inserire all'interno di un punto della mia borsa nell'angolino qui e tiriamo bene dopodichè rientriamo prendiamo un punto qua della borsa in corrispondenza un punto qua del manico e tiriamo per bene ok adesso scendiamo dal manico ok ed entriamo nella nostra borsa in questo modo e di nuovo tiriamo dopodichè passiamo dalla borsa invece stavolta così e in un punto del manico e proseguiamo così per tutto questo lato un punto guardate ho appena terminato di attaccare i manici alla mia borsa, questo è il risultato e dopodiché ho deciso di guarnirla in questo modo con un colore in contrasto che avevo, il colore Tiffany e poi ci ho cucito sopra delle perline nei punti di incontro dei fili e questo è il risultato finale così la borsa è leggermente più bella, più guarnita appunto, spero che il risultato vi piaccia, io sono molto soddisfatta, credo che sia la prima borsa che realizzo con i manici bambù e devo dire che sono contenta del risultato, spero che piaccia anche a voi, fatemelo sapere nei commenti, se provate a realizzarla mandatemi le foto sul gruppo di Facebook Mari l'Amica Uncinettina, io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo video, ciao!